Il neo procuratore della Repubblica del Tribunale di Siracusa, Francesco Paolo Giordano, che ha retto per almeno cinque anni il timone della procura di Caltagirone, si è recato al municipio per incontrare il sindaco Nicola Bonanno e quindi salutare virtualmente la città in cui ha lavorato e ottenuto significativi risultati, sia sul piano professionale, sia nei rapporti con il personale che lo ha coadiuvato. Mi mancherà moltissimo una struttura come quella di Caltagirone, una città come quella di Caltagirone, dove sono stato benissimo, anche perché ho avuto dei collaboratori in magistratura, nel personale amministrativo, nelle forze dell'ordine veramente di grosso spessore, di grosso calibro, e quindi sono pronto ad affrontare questa nuova esperienza che chiaramente mi metterà in gioco come una nuova sfida. Il procuratore Francesco Paolo Giordano ha noverato fra gli obiettivi raggiunti quello di avere contribuito al mantenimento del Palazzo di Giustizia, evitandone la soppressione nel periodo in cui i tagli del Ministero resero concreta questa ipotesi. Quello che ricordo con maggiore soddisfazione, se può servire a qualcosa, è quando ho saputo la notizia che gli uffici giudiziari rimanevano, perché questo è stato effettivamente un momento di fibrillazione, perché io, assieme a tanti altri, eravamo convinti e siamo convinti che un territorio come questo non poteva essere lasciato senza un ufficio giudiziario. Un secondo aspetto evidenziato dall'ex capo della procura di Caltagirona sono le iniziative assunte nell'ambito delle inchieste e delle vicende giudiziarie legate ai sequestri dell'area adibita alla costruzione del muos di Niscemi. C'è stato un effetto positivo di queste iniziative, anche se non hanno approdato ad una realizzazione ben precisa, però l'effetto positivo è stato nel contribuire a rendere consapevoli le autorità militari, delle problematiche e soprattutto del livello di accettazione e di resistenza che c'era nel territorio. Quindi alla fine queste iniziative sono state positive anche per questo. Il procuratore si è infine soffermato sul suo lavoro letterario legato alla storia di Filippo Cordova, per il cui personaggio storico ha recentemente scritto un libro. Ah beh, quello mi ha aiutato nei momenti di libertà, mi ha aiutato ad andare avanti in maniera più efficace, più efficiente perché insomma così ho fatto un lavaggio del cervello ecco quindi dimenticavo attraverso questa piccola ricerca tutte le varie questioni di lavoro e quindi mi è servito anche per questo. Conclude il sindaco di Caltagirone Nicola Bonanno che nel corso dell'incontro svoltosi al municipio e alla presenza del comandante della Polizia Municipale Renzo Germanà e del dirigente responsabile della procura Luciano Esposito ha ringraziato il procuratore per la prestante azione giudiziaria condotta a difesa di ogni principio di legalità. Il dottore Giordano lascia un segno fortissimo qui sul territorio, in particolare su Caltagirone, per il suo metodo di lavoro, per la sua organizzazione, per come ha saputo organizzare gli uffici. Lascia un segno forte perché si è occupato della sicurezza di tutto il territorio ma si è occupato anche di temi molto più importanti per quanto riguarda la salvaguardia di certi presidi sulla nostra città e sul nostro territorio calatino. Uno di questi è il Tribunale di Caltagirone, è stato salvato e l'impegno forte che ha profuso il nostro procuratore è stato evidente sotto gli occhi di tutti e il risultato è arrivato. Un altro impegno forte è anche da un punto di vista sociale, quando tutto un territorio che non è solo calatino ma è siciliano vuole combattere contro il MUOS, l'installazione del MUOS, la procura di Caltagirone con in testa proprio il nostro procuratore Giordano è riuscita in una prima fase a bloccare l'installazione e questo è un segnale molto forte, che ha dato coraggio soprattutto a gruppi di cittadini di spingersi oltre e arrivare a protestare assieme ai movimenti di MUOS perché questo segnale davvero è stato condiviso da tutti e si è compreso quale importanza potesse avere.